Allora, niente, è stata una vittoria importantissima perché ci tiene agganciati al treno dei playoff e niente, personalmente sono molto contento perché dopo otto mesi sono rientrato in campo anche se per qualche minuto e niente, ora abbiamo la sosta, ci dobbiamo preparare bene perché al ritorno il calendario sarà ostico, ci dirà di che pasta siamo fatti però con gli innesti di Bianchi, il recupero di Fumanti e un Rizza che oggi ha dimostrato di essere di un altro pianeta andare via per qualche mese gli ha fatto bene, è tornato con la carica giusta e anche oggi ha dimostrato, diciamo l'ha vinta quasi lui la partita anche se non ha fatto gol e niente, i presupposti ci sono, ci dobbiamo preparare bene auguri di buon Natale a tutti